ehi la turma io sono macetess e ben ritrovati qui con expeditions viking scusate un attimo po' da sistemare della roba perché sono disorganizzato e disordinato ma eccoci qua allora è un bel po' che non toccavo viking quindi devo un attimo ritrovarmi cvc allora se non sbaglio c'era rimasto solo più da andare a fare tomb raider tomb raider cioè di disseppellire i morti in giro qua credo che siamo ancora a riba e si a riba abbiamo fatto tutto e non c'è più niente da fare non c'è più niente da fare allora aspettate un attimo c'era qualche potenziamento forse che dovevo fare la homestead no in progress ok abbiamo fatto forse nell'ultimo episodio se non ricordo mai perché mi ricordavo qualcosa legato alla homestead allora ci abbiamo questi caricamenti lunghini sempre ogni volta allora dobbiamo andare dove in laggiù bestia un bel viaggetto la sleigh fra e sarà stanco tempo che arriviamo la ma vabbè andiamo la e ci riposiamo tutti si dobbiamo riposarci un attimo quindi abbiamo scoperto che quella z è per indicare che c'è qualcuno che sta controllo solo il microfono attivo non voglio fare cavolate allora disgruntled perché disgruntled ha preso per il discorso antico di un tempo adesso abbiamo anche tutta la gente nuova mannaggia la miseria dobbiamo farli mangiare tipo fortissimo appena la gente che fa cibo no no e no e porca miseria devo dare del cibo a tutte e tre queste nuove mi sa va la sveina e sa un sono tutti i tre con l'essere tra l'altro simpatico abbiamo due malsani tra l'altro allora vediamo un attimo rosk va tu al posto che fare medicina abbiamo delle medicina ben poche heal rank 2 Ketil e poi heal rank 2 Ketil e riesce heal ancora Ketil questo quanto costa 12 e dai e quindi questo è andato lui com'è che non fa niente ah perchè deve essere curato non può guarda faccio guarda rompe il coso no scusa tu ma card vengi al massimo scusa vengi al massimo di card ok tu non sai cacciare vero? può si sa ma non può farlo perchè è messo malino allora chi è la nostra charactors and skills warrior warrior archer e healer questa healer le darei delle skill mediche se possibile tipo dov'è la medicanza? preserving repairing hunting heavy slipper guarding diplomacy crafting cooking institution scouring tinker artisan forse qua witchcraft witchcraft da witchcraft al 3 perfetto per cui lei summer metterai a fare erbe 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 ok e poi dorme in tutto questo mentre invece sveila svala e sveina svala e guerriero e sveina e arciere e cos'è che c'ha è affamata svala e sveina metterai a fare un pochettino di caccia hunting re l'arciere più che altro 3d hunting ma perché ne vuole c'è ci sembra questo discorso però se mettessi uno cooking e dopo no no non volevo mettere uno di cooking no non volevo un pochettino Qua di boh è già passive. Ah ok devi spendere 100 in generale per poterla aumentare. Ah ok, quindi devo, non posso fare tutto, facciamo che potenziare ancora uno là, oh no non posso, ma qua posso, questo è buono, glielo mettiamo, cooking non mi interessa, crafting, diplomacy, guarding, mettiamo due guarding, every day party, preserving, mettiamo due preserving, repairing, scouting, tinker, ma ne ho spesi troppo pochi comunque per... Cripple può essere utile. E for the perception. Attrazione, ok, spot traps. Quanto mi costa, ma non voglio fare quello, vorrei potenziare questo ma non posso potenziare niente. Vabbè, mettiamo due scouting. Perché... The next knife, shield, zing, spear, sword, unarmed. potete mettere altra roba a caso. The next attack will always be a critical attack. Triple, dual wielding, feint, interrupt, rebook. Rebook può essere utile e anche questo. Ma non siamo comunque a 100, siamo lontanissimi da 100. Ho messo spot traps e siamo comunque a 92. Metto un altro cooking e non posso più di più. Ok, posso fare... Ok. Ottimo. Ottimo, ok. Mentre invece Svala, che è una guerriera... Guard. Posso potenziare guard? No, è già tre. Però posso potenziare hunting. Vado così, allora. Ma invece la nostra rosca va qua. Ah, è la witchcraft buona, eh. Tre. Ok. E... Healing... Deve spendere 100. Però posso spendergliene allora 6 da qualche altra parte, tipo... Ehm... tipo... No, quale che era quello che si... Quello che si fanno male meno facilmente. Ehm... 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 No, non ero qua. Ehm... No, non ero qua. Ehm... 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 Tieno due di guarding, che male non fa. E poi... Potenziamo allora la... Ehm... Dov'è che era qua? Healing. Ok, ottimo. Meglio così. Ok, stiamo entrando un attimo nell'ottica di cosa va fatto. Ed è passato praticamente un video intero. Comunque, detto questo, allora. Senor può fare... Ma tu vai a hunting... E hunting... Tu cos'è che hai? Vai hunting, hunting e hunting. Si è qualcuno che può cercare delle... Preserving. Ci sarà qualcosa che va male? No, non sto giro. Due hanno ancora degli shift liberi. Che sono Ketil, che non ha nulla da fare. E... E... Hades che può... Ehm... A Hades può anche curare? Ehm... Allora, vai cura in me. Così siamo un po'... Dovremmo essere a posto. Mentre invece Ketil, tu sai fare altro? Non sa solo guardare. Cioè, in realtà sa... Cioè... No, allora, facciamo così. Mettiamolo di guardia. E togliamo qualcuno di guardia che potrebbe fare altro. Tipo Nefia. Tu sai fare altro? Puoi anche scoutare. Quindi vai a... E fare un po' di scouting. Ah no, là no. In quel... Turno là, no. Dei fare così e poi dormire. Eh no. Comunque là, eh... Non c'è abbastanza gente. Tu dormi qua. E guarda qua. Ok. Ok. Ehm... Ok. Posso togliere qualcun altro che fa la guardia, in realtà? Tipo... No. 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 Mi sa nessuno. Va bene. Non importa. Va bene così, dai. Abbiamo 85% di scouting, 95% di hunting, nave di witchcraft, 95% di warding. Ci sta, no? Possiamo forse potenziare lo scouting di Nefia. Ehm... Come sta Nefia più che altro con punti? Ehm... Ne ha ancora tantissimi. Scouting. Guarding. Scouting. Devo spendere 100. Punti. Ne spendi solo 64. Ma scusa un attimo. Ehm... Mettiamole qualcosa in più. Stun. Non può metterlo. Anticipate. Opening. Perché a strength è troppo basse. Ehm... Witchcraft. Spot traps. Protect. Hm. Hm. Più 10 hit points con il fatto che... Ehm... Non ha scudo ci può stare. Questo ci può stare anche. Ehm... Ehm... Ci sta. Ehm... Ehm... Mettiamo qualche utility. Tipo... Preserving. Ancora non basta. Ehm... Ehm... Ah, questa. Questa è quella che non trovavo prima. Perché non la trovavo? Su Roskva. Constitution. Forse gliel'avevo già data. Può essere. Ehm... 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 Un altro di preserving. Che male non fa. Ehm... 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 Posca perchè non la constitution? Vai. Costituzione può far bene a tutti. Dai, prendilo anche tu. E... Prendi anche tu un constitution. E... E tu... E tu... E tu... e tu anche, tutti quelli che combattono insomma, può essere una buona idea avercelo chi è che non ho messo queste due, vabbè dai diamoglielo ah sono già 107, va bene così dai quindi roscva dovrebbe fare, ok, animal 25 di scouting, buono così e ci accapiamo not hungry anymore allora, abbiamo perso due razioni, ma abbiamo dato 18 di carne, ottimo, perso 9 di erbe ok ma ha perso 34 di medicina io sono guarito e Ketil è una ferita lieve tutti abbiamo mangiato, 10 si sono riposati e abbiamo trovato qualcosa di interessante negli intorni vediamo che questa cosa è interessante nei dintorni, quindi di conseguenza qualche risorso interessante ok c'è la gente che si è persa, li stanno litigando e gente dello Svealand chiedono chi siamo, sono Max e Tess sei viaggiatori eh abbiamo dobbiamo andare per il via ma ci siamo persi dobbiamo andare per il via ma ci siamo persi eeeh, ok, gli diamo indicazione ok, si è fatto più tardi, vabbè ok, 16 di legno, molto buono eeeh, non allungherei andando nel posto là sotto, allora per arrivare là eeeh, tempo che arriviamo in là ok, qua c'è Sunset chi è che inizia a essere stanco a Sleif fra quando arriviamo là quindi iniziamo ad incamminarci troveremo, ok poi c'è un accampamento ma è occupato ok, ce ne sono altri di intorni quello è molto buono ed è sicuro ma andiamo su quello allora due sono stanchi ma va bene dai, ci fermiamo qua a riposare un attimo allora adesso in realtà dobbiamo sperare di trovare un po' di erbe perché non abbiamo più tantissime erbe eeeh, siamo messi abbastanza bene come medicina ha fame ha fame ed è stanco ma avete ben mangiato ieri, no? no forse non ha sufficienza eeeh cos'è che volevo dire? allora Ketil deve ancora guarire quindi tu curi Ketil va benissimo hai del witchcraft 3 sì ma noi dobbiamo preservare un po' di carne, se vabbè noi allora diamo carne a tutti quanta carne avanzerà? stedici di carne andranno male per cui allora Roskva 2 preserva e preserva ehm Ketil ha bisogno di riposare eidis poi preserva ok diciotto vuol dire che ci manca ancora un botto di gemma noi possiamo potenziare il preserva di qualcuno mmm che può essere un buon preservatore? allora Asleifr e Gunnar li terrei guardia ma io per esempio su cosa sono focussato in questo momento? su un corno di niente posso guardare ma posso anche riservare anche se non metterei non spendere dei punti miei per delle skill che possono prendere anche gli altri Roskva ha già un sacco di grane per la testa lui deve picchiare bene 91 spent facciamo che spendagliene un altro paio e tipo più 10 hit points così gli diamo un guardia in più ok Asleifr gli metterei anche lui una guardia in più se possibile ah diamogli un Armor Piercing e un G-Hit Points che male non fanno qua possiamo potenziargli qualcosa? no perché ha bisogno di più punti eeeh Charge Crippled Dual Wielding Feint Interrupted Repoctoned e Throwing è già un sacco di roba Protect Spot Traps Tactical Move Taunt di utilità non vorrei dare l'altro vediamo un po' eeeh più un movement va sempre buono bene e gli do quindi un più guardia adesso se abbiamo loro due di guardia dobbiamo metterne altri tipo se lui riposa se abbiamo solo loro due di guardia va bene uguale sembra di sì e se tolgo anche me stesso no scrolla a 64 quando a Sleifre dorme ah ok perché qua c'è Nefia ma a Sleifre dorme quindi ok così a posto posso togliere il coso là ok ma posso anche fare così ok che mi occupo io di quei due shift e va benissimo così e posso in realtà pulire io ma bisogna anche alternare questi shift bisogna che tu dormi qua e fai la guardia qua ok così allora io faccio la guardia qua e pulisco tu non pulire tu fai riposa e ah ok non posso pulire allora niente pulisci tu allora e lui può fare altro per esempio in realtà lui sta male però posso dargli del preserve posso farlo preservare potentissimo lui no ha ancora dei punti ha una vagonata dei punti per cui facciamogli del preserve ok e però dovremmo ottenere qualcuno per riparare chi è che abbiamo di buono per riparare le cose dovremmo tenerci uno che ripara e uno che che cazzo tutto questo micromanagement mi sa che conviene che lo faccio off camera quindi detto questo io vi invito a lasciare un mi piace scriversi per caso non lo sia già fatto ci vediamo nel prossimo episodio in cui avrò risolto insomma questo enigma importante ciao a tutti e buona giornata